signor e signori halloween convento con con la signora dracolina dracolina sei tu no io sono dracolina e questa è la mia aiutante praticamente lui e lui e lui è un ragazzo giovane travestito in maniera così è un ragazzo giovane travestito da una signora vicchietta e la stampella e stampella bella bellissima praticamente suo fratello quello il fratello come si chiama il fratello guarda il fratello a sinistra eccolo bello sguardo bello sguardo molto sexy molto sexy bello bello poi poi cosa abbiamo questa con voi abbiamo la scheletrina cos'è scheletrina scheletrina facci vedere ecco scheletrina eccola ecco molto carina streghina streghina tutto in tutto in qua io mi chiamo in a suo serio tu a questo chiamo in a suo serio e iaculina e iaculina non c'è quindi per stasera cosa cercate noi cerchiamo un vampirino sempre piccolino però da dove venite io arrivo nella russia dalla russia a piedi trans iberiana sulle scarpe giuste per venire trans iberiana sei molto trans iberiana loro arrivano da bergamo da bergamo si vede che sono berga femmine loro bergamine e la ragazza arriva da bolivia bolivia a ta la bolivia polla bolivia della bolivia è incredibile dalla bolivia parla boliviano no 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 boliviano no no bolivia tipico nono boliviano è lui si 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 No, sì, un poco, un poco Un poco boliviano Tampoco, tampoco, tampoco È tutto poco questo È tutto, è di tutto Ma siete amici però? Sì, molto Anche scheletrina, molto amica Lei è mia allieva La tua allieva di cosa? Di patinaggio su ghiaccio Patinaggio su ghiaccio? Sì Ah, fantastico Anche lei è tua allieva si è fatta male Allieva numero uno Dalla Bolivia È scivolata Tripla, quadrupa Perfetto, allora Ci vediamo dopo? Sì, grazie Così Spaventiamoci, ci spaventiamo? Sì Ah Vai, dracolina Ah Bolivina Bolivina Sì, ah Ah Oh, sulle stampelle Oh Oh Sì, grazie